È una mostra molto importante perché presenta un ricchissimo patrimonio culturale che si riferisce a un paesaggio, quello della comunità trentina, in profonda trasformazione. Quando la tradizione e l'innovazione portata dagli studenti, da lotte per l'emancipazione, da interventi anche che si legavano a una nuova moda, a una nuova musica, ci mostrano questa dialettica interna che vede così anche uno sguardo ironico da parte di Faganello che da un lato coglie anche una certa melanconia di alcune situazioni che si collegano alla fatica dei campi ma allo stesso tempo anche a quella gioia della gioventù. Da questo punto di vista la mostra offre uno sguardo profondo che ci fa riflettere perché questo mondo è quello da cui noi proveniamo, quello che ha messo la nostra comunità in grado di dialogare con la modernità e allo stesso tempo avere anche delle radici profonde. Grazie.